Il Vallo di Diano è unito davanti alle difficoltà, pronto ad aiutarsi e ad aiutare. Lo dimostra quanto accaduto in poche ore su tutto il territorio. Un messaggio lanciato da un parente della giovane Federica Tropiano, rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente domestico avvenuto sabato scorso e ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, ha messo in moto un'immensa macchina della solidarietà su tutto il territorio. La richiesta di sangue del gruppo 0RH negativo ha fatto registrare una massiccia partecipazione. Sono stati in tanti a mettersi a disposizione per la donazione, che come annunciato nella serata di ieri, poteva essere effettuata anche presso l'ospedale Luigi Curto di Polla, dove i sanitari del centro trasfusionale erano pronti per accogliere le donazioni e specificarne la destinazione. Questa mattina oltre una trentina di persone si sono presentate davanti al presidio sanitario, muniti dei dispositivi di sicurezza anti-covid per aiutare la giovane, specificando la destinazione della loro offerta e offrendo il proprio sangue. Un numero considerevole, se si pensa che, viste le norme rigidissime da seguire, i tempi per effettuare le donazioni sono molto lunghi. Infatti solo 25 tra i tanti presenti sono riusciti ad effettuare la donazione di sangue a favore della giovane Federica. Alle ore 12 sono state interrotte le operazioni anche perché, dal punto di vista medico e sanitario, le donazioni di sangue è preferibile eseguirle di mattina, dopo una colazione leggera o meglio ancora a digiuno. Le donazioni per la giovane ragazza di Teggiano riprenderanno regolarmente domani mattina, a partire dalle ore 8, sempre presso il centro trasfusionale di Polla, dove sono presenti anche i volontari del gruppo Fratres, per coordinare le operazioni di donazione e assicurare il rispetto delle norme anti-Covid. I volontari valdianesi del gruppo Fratres, inoltre, si sono attivati anche a Napoli. Abbiamo provveduto, spiega il presidente Benedetto Mazzariello, ad allertare i donatori dei gruppi Fratres dell'area metropolitana di Napoli, tramite il presidente regionale, che si è messo subito a disposizione, invitando i donatori Fratres a recarsi al Cardarelli per effettuare la donazione di sangue a favore della giovane di Teggiano. Inoltre, la famiglia Tropiano, continua, è stata informata sui nominativi e i nomi dei donatori del Vallo di Diano, che hanno manifestato la disponibilità a recarsi direttamente a Napoli per le donazioni e supportare così l'urgenza. Un'immensa macchina di solidarietà e amore si è messa in moto a favore della giovane Teggianese, dimostrando come il Vallo di Diano, di fronte alle difficoltà di ciascuno dei suoi concittadini, non si tira indietro, manifestando un'immensa generosità.